Era stato arrestato perché autore di uno scippo con trascinamento a terra per diversi metri di un'anziana signora. Adesso il giudice del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha condannato a tre anni e due mesi di reclusione Roberto D'Angelo, 35 anni, di Ribera. Nello scorso mese di ottobre i carabinieri della tenenza di Ribera erano riusciti a identificare e arrestare l'uomo grazie al racconto di alcuni testimoni e alle immagini acquisite dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza che inquadravano la zona. Lo scippo risale lo scorso 23 agosto quando D'Angelo, a bordo di uno scooter, ha tentato di rapinare un'anziana 79enne. Aveva cercato di strapparle la borsa che la vittima però ha tenuto ben stretta al braccio e nel tentativo di vincere la resistenza opposta, il 35enne l'ha fatta cadere a terra trascinandola per diversi metri sull'asfalto.